Milan-Venezia termina 4-0. Il Milan vince contro il Venezia con un poker di gol meraviglioso. Un Milan che gioca in casa, un Venezia invece che gioca ovviamente fuori casa. Imponente, massiccio, determinato, caparbio, agguerrito più che mai, combattivo, decisamente reattivo. Sono questi gli aggettivi che mi sento di utilizzare per definire i nero-rossi, i rossoneri. Quattro gol, due su rigore, due no. Terra Fernandes nel primo tempo, dopo pochi minuti a fischio d'inizio, Yusuf Fofana, Christian Pulisic, questo è il gol su rigore. Ed infine l'altro gol su rigore, ma non per questo di minore importanza, di Tammi Abram. Tutti e quattro i gol arrivano nel primo tempo. Una fuori è il primo tempo, devo ammettere, devo dire, anche il secondo, ma nel primo tempo la vittoria è palesissima. Il Venezia rimane a 0, da segnalare soltanto un'espulsione per il Venezia, quindi un cartello rosso ad uscire dal gioco è stato Anson Nicolussi-Caviglia nel secondo tempo regolamentare. Le statistiche, ma neanche dovrei citarvelo, faccio lo stesso, per incomplerezza, possesso di pari elevatissimo per il Milan. Passaggi in quantità abbondante per il Milan? Una previsione nei passaggi molto più elevata in Milan rispetto alla Venezia. Dunque, il risultato rispecchia le statistiche della partita di oggi, 14 settembre 2024 di Serie A. Comprenete dunque al Milan? Iscrivetevi, scrivetevi, commentate. Una buona notte a voi tutti.